Amici, c'è una cosa che fatico a capire e anche un po' a sopportare. I convegni sul web 7, quelli sul metaverso e quelli su tutto quello che non esiste per attrarre persone che vengono per capire come sarà il futuro. Ma in realtà queste robine qua che vengono vendute dal punto di vista della comunicazione poi però sono inutili. E allora sarebbe bello vedere un bel convegno sul web fatto bene. E tu dici ma non viene nessuno, il web ormai è roba vecchia, lo conosco. No, non è roba vecchia, perché è fatto male, perché è dimenticato, perché la maggior parte dei siti non sono usabili. Lo sapete tutti quando entrate in un sito, clicchi, non va, il form è storto, non è leggibile, non parte il video, non si trovano i contenuti sia nella pubblica amministrazione sia nelle aziende private perché stanno spendendo un bucchio di soldi su queste cosettine nuove che non esistono e pochi in quelle che esistono e che invece sono molto utili. Anche nei social media si buttano spesso più soldi del necessario che invece sarebbe bene che si spendessero su cose che esistono. Per cui, facciamo convegni su cose che esistono. Se oggi io dovessi fare un convegno sulle app, non verrebbe nessuno, perché bisogna fare le app 18.0, AI, Antificial App Intelligence. Ma in realtà le app spesso fatte dalle aziende funzionano malino e abbiamo anche il benchmark, come si dice nel mondo del marketing, dell'inglese, che cioè il confronto con app che funziona molto bene. Sappiamo quando usiamo Facebook, quando usiamo Instagram, sappiamo che abbiamo un confronto diretto, diciamo, ma le cose si possono fare bene, come mai questa non va? Ecco, perché è fatta male. Bisognerebbe fare ripensare a queste cose, al web, alle app, alla comunicazione di base, a come risponderà una mail. Ecco, queste sono le cose che servono. No, il metaverso che non esiste, il web 18.